Si riapre la questione dell'eutanasia in Italia attraverso un nuovo e controverso caso di richiesta di suicidio assistito. E' quanto accade con la vicenda di un camionista marchigiano, 43enne, Mario, nome inventato, tetraplegico immobilizzato da 10 anni. La richiesta di suicidio assistito da parte dell'uomo era stata fatta più di un anno fa, nell'agosto del 2020, e l'asla marchigiana l'aveva respinta. L'asla era stata poi chiamata dal Tribunale di Ancona a verificare la sussistenza, nel caso specifico delle condizioni previste dalla Corte Costituzionale per il via libera suicidio assistito, vale a dire i quali requisiti dell'irreversibilità del male e della sofferenza che il malato non riesce più a tollerare. Ma a proposito del requisito della sofferenza intollerabile, il Comitato Etico delle aziende sanitarie marchigiane lo definirebbe elemento soggettivo di difficile interpretazione. Tuttavia i media riportano di una presunta autorizzazione da parte dello stesso Comitato Etico a praticare il suicidio assistito. Si tratta di un parere, come tale non vincolante, che non ha né forza di legge né di una sentenza. È un parere che riguarda in astratto la possibilità di somministrare un farmaco letale, di autosomministrarsi, e che peraltro dice che nel caso specifico questo non è possibile perché proprio sul farmaco, sulla sua posologia, ci sono dei dubbi, delle incertezze. E quindi non è un parere positivo, è un parere in realtà negativo perché manca questo tassello. Inoltre, come tutti i pareri, non possono vincolare il Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale in Italia è preposto alla cura, alla somministrazione di terapie verso i propri cittadini e non certo all'assistenza di un atto di suicidio assistito. Dal canto suo anche la Pontificia Accademia per la Vita, con una riflessione su un terreno che definisce delicato e controverso, riporta il ruolo dei comitati etici nell'ambito di un parere consultivo. L'Accademia per la Vita suggerisce la presenza di comitati tecnico-scientifici, comunque definendo ruoli e competenze finora non chiarite, ribadisce che la soluzione al dolore, anche quello più estremo, non può essere. Pone interrogativi sul valore della vita e dei giuramenti a tutelarla, ma il prendessi cura del malato, accompagnandolo con le adeguate terapie mediche e con cure palliative.